La settimana scorsa tu hai giocato contro il Borussia Dortmund che giocherà in Champions contro il Napoli il Napoli appunto aprirà la sua Champions contro il Borussia Dortmund vuoi dare qualche consiglio visto che ci hai giocato e conosci qualche segreti in più a Benitez su come affrontare questi gialloneri di clopo che sembrano fortissimi? Sono una grande squadra giovane ma una grande squadra la cosa che fa più paura del Borussia Dortmund è lo stadio sicuramente hanno una curva che è incredibile però il Napoli ha fatto dei grandissimi acquisti ed è una grandissima squadra io penso che possa farci